Ehi, sei arrivato? Eccolo! L'hai fatto prima di tua mamma? Bravo! Così si fa! Gru, gru, gru! Fai le cussine! Guarda! E come taglia queste sulle? E come vuole giocare cucciolotte! Ciao! Ciao! E se mi chuca! Ma quanto è carino! Ehi, miccia! Anzi, miccia! Sei maschio! Ecco qua! Vuoi la scatoletta? E beh, la vuole sì! Voglio la pappa! Ma si strugia! Ehi, sì che la vuole! Oggi fa caldo! Sabato 8 giugno fa caldo! Vuoi andare male? Micetta? Anzi, micetto! Ma che bel micetto! Oggi prepariamo la pappa! Non stacco un attimo! Ehi, è arrivata anche la mammina! Ma dove stai? Oggi ti sei fatta pregata tuo figlio! Ho appena aperto quello eh! L'odore! L'odore! Il richiamo! E la scatoletta! Guarda, guarda, guarda qua! Eccoli! Ecco qua! Eccoli! Ah! Mi piace proprio il lui! Molto appaggioso! Ah! Ah! Mi piace proprio il loro! E' un po' ma come sono bravi questi umani ci portano la pappa voi iscrivetevi al canale tanto è gratis così ci vedete aspetta ci mettiamo anche due brocchette ecco come è questo è rogusta mi piace ma con gli occhi chiusi ma com'è buono grazie umano dai vai e la tua mamma ha già fatto spazzolato tutto ha mangiato un po' di freddo vero? no 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 fai mangiato il tuo figlio fa mangiato il tuo figlio lo sta proprio a gustavo piano piano la han guidato tranquillo e lei vuole? no 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 tu hai già mangiato il tuo figlio Qua si è finito, dai! Che fai la guardia? Ma qua! Ormai... Ma tu sembra che ci devi mettere il biglio! Saluta dai! Ciao followers!